Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, un piacere vedervi qui in presenza, un saluto anche a chi ci sta seguendo da remoto. Il mio nome è Leonora Tafur Ambrosetti, sono ricercatrice al centro-Russia, Caucaso e Asia centrale qui all'ISPI. Questa sera parliamo di un tema molto importante che è tornato alla ribalta soprattutto con la guerra in Ucraina, ovvero le relazioni tra Russia e Cina. Una relazione che ha attirato molta attenzione, come dicevo, anche molte etichette, se vogliamo. È stata definita in vari modi, relazione asimmetrica, partnership di ferro, matrimonio di convenienza. In un certo senso queste etichette sono state utilizzate anche per definire le relazioni tra Russia e Turchia. Possiamo parlarne dopo. Chiaramente, dicevamo, questa relazione ha destato sempre più attenzione per via del tacito sostegno della Cina alla Russia nell'invasione dell'Ucraina, ma lo spunto che ci ha permesso di parlare di questo tema così importante in realtà è stato un vertice, il vertice della SCO. La SCO, la Shanghai Cooperation Organization, è un'organizzazione fondata appunto da Russia e Cina che inizialmente aveva come membri gli stati quattro delle cinque repubbliche centroasiatiche e che negli anni si è allargata. Allargata sempre di più configurandosi come come un'organizzazione eurasiatica che ha non solo i membri a pieno titolo ma anche osservatori e partner di dialogo come l'Iran o come l'Ungheria. Quindi abbiamo veramente un'organizzazione che sta attirando molta attenzione alla luce della contrapposizione tra Russia e Cina e Occidente e che ha ripercussioni anche al di fuori dell'area centroasiatica. Proprio ieri mattina Vladimir Putin, il presidente russo, ha trasmesso un messaggio ai cittadini dichiarando la mobilitazione parziale dei russi quindi incrementando lo sforzo bellico russo e questa decisione secondo alcuni analisti è stata parzialmente motivata dal dal tiepido benvenuto che Putin ha avuto alla SCO, al summit della SCO la settimana scorsa in Uzbekistan. Un benvenuto tiepido che è giustificato dai timori dei leader della SCO, dai vari mal di pancia. I leader cinese e indiano hanno esplicitamente detto che sono contrari a questa guerra e sono soprattutto preoccupati per gli effetti che ha questa guerra anche per i loro paesi. In più il messaggio di ieri di Putin parla di nuovo di una minaccia nucleare che è tornata di nuovo a spaventare tutti e che potrebbe anche cambiare, ci diranno i nostri ospiti dopo, il ruolo che la Cina ha in questa guerra. Quindi abbiamo un sacco di argomenti di cui discutere stasera, lo facciamo oggi con due ospiti qui con me in sala e uno da remoto, ve li presento. Abbiamo Eric Leiman, un giornalista americano che vive a Roma e si ha collaborato con varie testate con USA Today, Fortune Magazine, The Guardian, Washington Times e anche con Xinhua, l'agenzia di stampa cinese. Poi abbiamo Giulia Asciorati che è una postdoctoral fellow all'università di Trento in studi cinesi. Giulia è anche una nostra associata nel programma Cina e si occupa proprio di Cina in Asia centrale. Da Regno Unito saluto Filippo Costa Buranelli che è un professore associato in relazioni internazionali all'università di San Andreas e anche lui esperto di Asia centrale con un focus su Kazakstan. Ciao Filippo. Allora io partirei proprio da te Filippo e ti voglio chiedere che cos'è l'ASCO, questa organizzazione di cui fino a poco tempo fa nessuno parlava molto, perché è importante e soprattutto perché è importante per la relazione Russia-Cina e quali sono i risultati del summit di Samarkand. Mi ricordo che nel 2006 quest'organizzazione venne definita un blef geopolitico da un ricercatore kazako. Oggi è ancora così? Sei muto Filippo? No. Mi sentite adesso? Aspetta forse è un problema nostro. Non mi sentite? Adesso sì. Perfetto. Allora chiedo conferma, mi sentite? Buonasera a tutti. Grazie Eleonora per la generosa introduzione e un caro saluto a Eric, a Giulia. Mi dispiace molto non essere presente di persona, ma è un grande onore essere presente in remoto. Buonasera anche a tutti gli spettatori da remoto e gli astanti con voi in sala. Che cos'è la Shanghai Cooperation Organization? La Shanghai Cooperation Organization è un'organizzazione regionale multilaterale che copre quasi l'intera area del continente euroasiatico. È un'organizzazione che trova la sua ragion d'essere già la metà degli anni 90, quando Cina, Russia e le repubbliche centrasiatiche del Kazakistan, Tajikistan e Kyrgyzstan, formarono il cosiddetto gruppo dei 5 di Shanghai, lo Shanghai Five, per ridurre le tensioni a livello territoriale e per portare a termine la delimitazione, la demarcazione dei confini comuni in modo pacifico e con spirito costruttivo. Quando l'Uzbekistan si unì a questo gruppo, all'inizio degli anni 2000, il gruppo divenne un'organizzazione formalizzata a livello regionale, chiamata organizzazione della cooperazione di Shanghai. Io questa sera continuerò a usare l'acronimo inglese SEO o la sua denominazione Shanghai Cooperation Organization. È un'organizzazione, come ho detto prima, molto vasta. È importante perché include il quasi 40% dell'intera umanità dal punto di vista di popolazione ed è un'organizzazione che racchiude quasi il 30% del GDP mondiale. L'organizzazione si è espansa nel corso degli anni. Ho menzionato prima Russia, Cina, Kyrgyzstan, Tajikistan e Kazakistan. Sussequentemente l'Uzbekistan ha due altri giganti del continente eurasiatico, Pakistan ed India. Al summit di Samarkand settimana scorsa anche l'Iran ha fatto il suo ingresso quasi ufficiale, siamo in dirittura di arrivo, in questa organizzazione, aumentando di fatto il raggio d'azione e il peso geopolitico di questa organizzazione. Passando dal, diciamo, dalla predominanza dell'aspetto territoriale di questa organizzazione, la Shanghai Cooperation Organization si è evoluta più principalmente a coprire l'aspetto di sicurezza del continente eurasiatico. I tre pilastri di questa organizzazione sono la lotta al terrorismo, al separatismo e all'estremismo. E questo è stato importante soprattutto nei primi anni 2000, quando vi era collaborazione tra gli stati eurasiatici e l'occidente, specie alla luce delle campagne, della campagna in Afghanistan. E questo, diciamo, focus sulla sicurezza si è poi ampliato e questo ampliamento, diciamo, ha trovato la sua ufficializzazione proprio al meeting di settimana scorsa. Perché oltre alla sicurezza sono assunti adesso a pilastri fondamentali di questa organizzazione, anche lo sviluppo sostenibile, la sicurezza, l'interconnessione infrastrutturale, nonché la diversificazione monetaria. Uno dei risultati del SAMI di Samarkand è stato di fatto la sanzione, il fatto che sia stato sancito un programma di dedollarizzazione di global governance. E questo non solo perché è proposto e spinto da Russia e Cina, ma anche con l'avvallo di India, di Iran e anche delle repubbliche centrasiatiche. Una dedollarizzazione che poi va a unirsi anche a una riforma proposta dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio. Da un punto di vista logistico, diciamo, amministrativo, la Shanghai Cooperation Organization è un'organizzazione che risponde a un'esigenza di agenda setting, quello che in inglese si chiama delimitazione delle priorità. Credo sia sbagliato definire la Shanghai Cooperation Organization un blocco, non credo abbia mai avuto la velleità o l'aspirazione di essere un blocco. È importante a questo proposito ricordare che il chairman di questa organizzazione uscente, che è l'Uzbekistan, ha proprio definito uno dei maggiori elementi attrattivi di questa organizzazione è quello del non essere un blocco, ma di essere anzi un'organizzazione inclusiva per tutti quei stati e quei governi che hanno problemi con uno o più aspetti dell'egemonia liberale americana e che quindi sono volti a, diciamo, continuare e a rafforzare il processo di pluralizzazione dell'ordine mondiale. Una cosa importante da sottolineare, e in questo rispondo all'analista Kazako che definì la Shanghai Cooperation Organization un bluff, è che la Shanghai Cooperation Organization cambia significato a seconda dell'attore coinvolto. Quindi per la Russia è un modo di bilanciare la Cina e di tenere un occhio sulle repubbliche centrasiatiche, per la Cina è un veicolo per legittimare la propria preponderanza soprattutto economica, ma non solo, all'interno della regione centrasiatica, per l'India è un modo per cementare le relazioni con l'Asia centrale che vanno indietro fino all'impero Mughul e per cementare questo rapporto non solo a livello normativo e storico, ma anche infrastrutturale ed energetico. Per l'Iran è evidente che la missione alla Shanghai Cooperation Organization è importante per combattere lo status di paraia, di nazione canaglia, che è stato attribuito all'Iran da buona parte dell'Occidente, fino anche dal Medio Oriente, e per le repubbliche centrasiatiche, che, insomma, se lo Shanghai Cooperation Organization è un bluff, per loro è un poker, perché è la piattaforma migliore possibile proprio per bilanciare le differenti grandi potenze, diciamo, circostanti. In conclusione, voglio solo aggiungere due cose e poi concludo questa prima parte del mio intervento, vorrei sottolineare come la Shanghai Cooperation Organization non sia magari vista molto spesso come un'organizzazione efficiente o come un'organizzazione che abbia degli outputs o dei risultati tangibili. Molto spesso è descritta come un forum o una serie di conferenze che portano un po' a poco. A me piace definire questa organizzazione come una celebrazione, usando uno simoro, del multilateralismo bilaterale. Cioè è un'organizzazione che permette allo stesso tempo di effettuare numerosi incontri multilaterali e bilaterali tra stati e governi che per una ragione o per l'altra non hanno o non vogliono parlarsi se non appunto coinvolti all'interno di questa organizzazione. Ed è un modo proprio per avanzare delle istanze, da un punto di vista collettivo e regionale, per picconare gradualmente i principi cardine dell'ordine internazionale e liberale, avanzando nuove interpretazioni e nuove norme per renderlo più multiporale, più diversificato. Da ultimo la Shanghai Cooperation Organization è importantissima per legare elementi di politica interna con elementi di politica estera. Se pensiamo per esempio al caso Kazako, il 20 novembre ci saranno le nuove elezioni presidenziali anticipate. Presentarsi sulla scena della Shanghai Cooperation Organization, intraprendendo dialogo, riforme proposte con le grandi potenze rasiatiche e con i vicini, è sicuramente una piattaforma importantissima per avanzare quello che è la visione del prossimo periodo di presidenza, in questo caso di Tokayev. Kyrgyzstan e Tajikistan stanno avendo un conflitto molto violento sui loro confini e possono utilizzare questa piattaforma per portare anche le loro istanze a quei paesi vicini e per trovare una soluzione multilaterale o al contrario per trovare nuove alleanze. Quindi è un'organizzazione magari non pregnante ma sicuramente complessa e di indubbio valore. Mi fermo qui, vi ringrazio. Grazie Filippo, davvero ottima panoramica, molto completa della scommia, colpita in particolare l'elemento antioccidentale che hai sottolineato, la SCO come mezzo per avanzare nell'evoluzione da un ordine liberale considerato unilaterale soprattutto da Russia e Cina ad un ordine multipolare, multipolarità che è chiaramente uno dei cardini della politica estera russa, delle narrazioni di politica estera russa ma anche della Cina. Quindi mi sposterei proprio sulla Cina e chiederei a Giulia ed Eric qual è il punto di vista cinese sulla SCO ma anche sul summit che si è celebrato la settimana scorsa. E poi ad Eric magari chiederei anche un po' come vista la SCO negli Stati Uniti che chiesero nel 2005 di diventare osservatori del paese osservatore dell'organizzazione ma questa richiesta venne rifiutata. Quindi magari se ti va di fare anche un po' un cenno a come viene vista questa organizzazione. Prima Giulia poi Eric. Grazie mille Leonora per l'invito e mi accodo a Filippo negli esterni dei miei saluti. Sicuramente la Cina è sempre stato fin dagli albori, Filippo ce l'ha ricordato molto bene questa lunghissima evoluzione che la SCO ha avuto dal 96 nel 2001 con la sua effettiva istituzionalizzazione e l'organizzazione regionale che in qualche modo conosciamo oggi. Ha sempre dato una spinta. In Accademia si litiga ancora su se questa organizzazione sia nata effettivamente su spinta russa o su spinta cinese. Sa di fatto che per la Cina si è sempre dimostrata un'organizzazione molto importante perché quando si è andata in qualche modo a formare la Cina si trovava di fronte al crollo dell'Unione Sovietica e a tutti i confini occidentali completamente da rivedere, andare a ristaurare relazioni diplomatiche con questi nuovi vicini. La relazione della Cina con la SCO si è evoluta nel tempo ma è rimasta sempre estremamente positiva e se all'inizio la Cina ha fatto perno in qualche modo sul fatto che la Russia era ben consapevole di quelli che erano le peculiarità dei paesi, degli altri partner all'interno della Shanghai Copersia, quindi i paesi dell'Asia Centrale, i paesi che avevano fatto parte dell'Unione Sovietica per in qualche modo iniziare a instaurare una serie di relazioni diplomatiche con questi paesi. Negli anni e soprattutto questa tendenza si è vista in particolare all'inizio degli anni 2010 sotto Hu Jintao prima ancora della presenza di Xi Jinping che è l'attuale presidente cinese e si è proprio visto questa spinta che la Cina si è data nell'essere sempre più partecipe all'interno di questa organizzazione. Vorrei riprendere uno degli ultimi punti che Filippo ci ha sottolineato e che è quello del bilateralismo che mi fa molto piacere sia stato già ricordato perché anche con il summit di Samarkand uno dei punti focali da ricordare per la Cina nella suo engagement con questa organizzazione e i paesi che ne fanno parte è proprio la dimensione bilaterale. Storicamente la Cina porta avanti la sua politica estera primariamente a livello bilaterale. La domanda che mi potete porre è ma questa Belt and Road Initiative, questo grande progetto strategico che la Cina porta avanti dal 2013 è teoricamente multilaterale? In realtà anche la Belt and Road Initiative funziona molto a livello bilaterale messo poi insieme in un contesto in qualche modo discorsivo più che pratico che è questo della Belt and Road Initiative. Una dinamica simile la possiamo vedere nella Shanghai Cooperation Organization. Interessante notare come al di là del summit di Samarkand i momenti forse più salienti e anche più riconosciuti in qualche modo dalla stampa cinese, dai documenti governativi cinesi si sono infatti soffermati su tutti questi incontri che il presidente Xi Jinping ha avuto in presenza per la prima volta dall'inizio della pandemia con la maggior parte dei capi di Stato dei paesi che fanno parte della Shanghai Cooperation Organization e non soltanto. Il presidente Xi Jinping prima di recarsi in Uzbekistan ha fatto tappa proprio in Kazakistan per la prima volta appunto questa grande visita di Stato, per la prima volta ha lasciato il paese dal 2019 e in questo senso proprio possiamo vedere quanto effettivamente ci sia questa visione della Shanghai Cooperation Organization anche come un mezzo per concentrarsi, per riprendere in mano tutte quelle che sono le relazioni bilaterali appoggiandosi su questo framework multilaterale. Un ultimo punto su cui mi vorrei soffermare per quanto riguarda la posizione cinese molto positiva per quanto riguarda l'organizzazione in sé per sé, molto ambigua anche per quanto riguarda lo scopo effettivamente che la Shanghai Cooperation Organization ha per la sua politica estera, al di là di mettere sotto un'unica cornice tutti questi capi di Stato, è il fatto che la Cina ci ha dimostrato di riconoscere in qualche modo un'evoluzione della Shanghai Cooperation Organization. Filippo la ricordava bene nella sua presentazione ponendoci di fronte al fatto che questa organizzazione si sta espandendo moltissimo, se prima era concentrata su una particolare area del mondo che è l'Asia centrale, si sta espandendo, abbiamo ricordato l'Iran che sta per diventare membro effettivo, ma non soltanto l'Iran, oltre ai membri effettivi dell'organizzazione ci sono una serie di membership più o meno effettive che hanno diversi nomi e diversi status e si sta espandendo sempre di più verso il Medio Oriente e il Mediterraneo, l'Egitto è stato sancito come partner di dialogo della SCO. Bene, questa evoluzione si è dimostrato, la Cina ha dimostrato di riconoscerla, infatti l'anno scorso ha effettivamente instaurato un nuovo framework per relazionarsi con quelli che erano i paesi partner originari della Shanghai Cooperation Organization, questo framework di interrelazione tra la Cina e i cinque paesi centroasiatici che ci dimostra un po' quanto effettivamente Pechino sia consapevole del fatto che l'organizzazione si sta sempre e sempre più spostando e cambiando in qualche modo il ruolo e espandendo in qualche modo il ruolo che aveva nel 96, che come ci ricordava Filippo era focalizzata quasi esclusivamente su un sistemare quelli che erano i confini occidentali del paese. Sì esatto, hai ricordato appunto i partner di dialogo che è uno dei modi con cui la SCO poi espande la sua membership senza avere necessariamente nuovi membri ma includendo paesi tra i più diversi inclusa la Turchia che è membro nato, questo chiaramente ha preoccupato non poco molti paesi occidentali. Eric, qual è il punto di vista che ci puoi dare? Grazie a tutti per iniziare e vorrei chiedere che mi scusate in anticipo perché sono l'unico qua che non parla l'italiano perfettamente. Parlando adesso del SCO mi fa ricordare una battuta americana, penso che Mark Twain ma nessuno è sicuro chi l'ha detto, ma che Dio ha inventato guerra per far imparare ai americani la geografia. E penso che si può dire una cosa anche simile sull'affare internazionale. Io ricordo in 2005 con Bush il figlio quando ero presidente americano che si parlava per un attimino sulla Shanghai Cooperation Organization ma era una cosa che durava pochi giorni. Adesso ho un amico, un ex compagno di scuola che lavora a scrivere editoriali per Washington Post e lui mi dice che stanno parlando anche nel loro meeting per discutere il tema. È una cosa che è diventata molto rilevante per questa situazione di oggi. Non penso che sia una cosa che si parla al bar la mattina del SCO in Washington, New York o Chicago ma io penso che sia una cosa che da un momento all'altro è diventata più rilevante in America soprattutto per la situazione in Ucraina. Devo sottolineare una cosa che io non vivo in America da una vita, vivo più fuori che, non sempre in Italia ma più fuori che in America. Ma parlando con amici giornalisti, amici in America penso che la situazione in Ucraina è vista come un antiprima di un futuro conflitto, possibile conflitto con la Cina e perciò è importante e perciò vedo che tanti dei miei paesani in America stanno dando molto importanza non solo a Shanghai Cooperation Organization ma anche a tutto ciò che sta succedendo all'estero e per il fatto che c'era questa reception tiepito di Xi Jinping a Putin in Uzbekistan penso che è stato visto in un modo importante leggendo tra le righe è stato interpretato in la stampa americana come una cosa che può darci un'idea di un futuro appoggio di Cina per Russia ma non penso che Russia sia vista come il grande minaccia per una dominanza americana che la Cina rappresenta e io penso che per quel motivo il SCO è una cosa che esiste adesso per il tipico americano informato non dico che è una conversazione centrale che si parla tutti i giorni ma probabilmente prima degli ultimi giorni non esisteva proprio e adesso è una cosa che si parla che è già una cosa che io vedo come importante grazie mille Eric non ti devi scusare perché il tuo italiano è chiaro ecco vedi fai anche il plauso del pubblico e soprattutto grazie per aver sollevato un tema centrale che l'interesse della SCO oggi giorno è ancora più forte alla luce della guerra in Ucraina io tornerei da Filippo proprio per un commento sull'immagine della Russia dopo l'invasione dell'Ucraina a febbraio scorso tu sei un esperto di Asia centrale l'Asia centrale è sempre stata vista come un po' il vicinato russo la Russia ha tantissimi legami politici, economici e di sicurezza con tutte e cinque le repubbliche centroasiatiche però questa guerra sta un po' cambiando l'immagine della Russia tra i paesi centroasiatici quindi come appunto in che maniera sta cambiando e come vedi tu che si sta configurando l'ordine euroasiatico dopo l'invasione dell'Ucraina? grazie Eleonora per questa domanda continuo a chiedere conferma e continuate a sentirmi sì sì, benissimo allora, inizio con due premesse la prima è che nonostante sia una tentazione molto grande semplificare quella che è la regione centroasiatica e descrivere le cinque repubbliche centroasiatiche come se fossero un unicum inscindibile dobbiamo tenere presente che l'Asia centrale è molto variegata come regione e che se esiste una regione esistono anche cinque voci all'interno di essa che molto spesso sono in sintoria e altrettanto spesso sono in disaccordo il modo in cui l'immagine e il ruolo della Russia sta cambiando nella regione centroasiatica è esattamente da declinare secondo questo assunto sta cambiando e si sta diciamo sta assumendo contorni differenti in modo diverso per ogni attore centroasiatico e adesso elaboro su questo punto la seconda premessa che voglio fare però è che dobbiamo resistere un'altra tentazione e questa magari è un po' il segreto di Pulcinella però le relazioni internazionali non funzionano in modo binario non si passa dal giorno alla notte non si passa dal pro al contro le relazioni internazionali soprattutto nella pratica meno nella teoria sono molto spesso caratterizzate da trends da dinamiche e da situazioni difficili da cogliere nel momento che diventano solo più chiare dopo un determinato lasso di tempo quindi io parlerei del trend del cambiamento dell'immagine della Russia è qualcosa che è in divenire e se avremo un altro evento tra quattro mesi probabilmente la nostra risposta a questa domanda sarà un'altra allora l'immagine della Russia nella regione centroasiatica sta venendo rivalutata in peggio se vogliamo la regione sta ormai venendo a patti con l'idea che la forza militare e la preponderanza egemonica della Russia nella regione è meno affidabile e meno solida di quanto si potesse pensare non solo fino a prima di febbraio ma anche fino a qualche anno fa ovviamente all'interno della regione centroasiatica chi è in una posizione un po' più scomoda è il Kazakistan questo è alla luce del secondo confine più lungo del mondo che condivide con la Russia e alla luce della profonda interdipendenza non userei la parola dipendenza ma interdipendenza politica, economica, infrastrutturale, energetica e storica che c'è tra questi due paesi il Kazakistan è un paese molto pragmatico e molto realista capisce molto bene che il legame con la Russia non può essere tagliato dall'oggi al domani e lo dimostra il fatto che ci sono ancora oggi numerosi progetti di collaborazione e sviluppo a livello economico e militare con il vicino russo al tempo stesso il Kazakistan ha in più di un'occasione dimostrato come non sia in una posizione di poter supportare le azioni del Cremlino in Ucraina ha più volte manifestato la volontà di vedere il diritto internazionale soprattutto quello territoriale rispettato ha più volte proposto e avanzato queste istanze in piattaforme, su piattaforme regionali e globali non ultimo ieri all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed è in una posizione molto delicata perché capisce il significato dei legami con la Russia ma al tempo stesso non ha mai fatto segreto della propria preferenza per quello che è stato descritto come una politica estera multivettoriale non solo da nord a sud ma anche da est a ovest prima di andare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite Tokayev si è incontrato con almeno una dozzina di delegazioni americane a New York per negoziare nuovi contratti, nuove partnerships la stessa cosa è stata fatta nei mesi precedenti a Bruxelles all'interno dell'Unione Europea quindi questo per quanto riguarda il Kazakistan Kyrgyzstan e Tajikistan sono in una posizione questo sì, di un po' più dipendenza dal punto di vista militare e soprattutto economico questo alla luce del fatto che Kyrgyzstan e Tajikistan forniscono il più alto numero di migranti economici di gaster biters in Russia e questo ovviamente ha anche un impatto economico su questi due paesi al tempo stesso però si vede diciamo il ruolo un po' eroso della Russia nella regione sul confine, proprio sul confine Kyrgyz-Tajiko dove nei giorni scorsi più di 100 morti si sono verificati al confine per quella che è ormai un preludio quasi a una guerra tra queste due repubbliche dove la Russia si è proposta come mediatrice ma entrambi i governi hanno rifiutato per quanto riguarda l'Uzbekistan storicamente l'Uzbekistan è sempre stato un po' più diciamo realista e pragmatico ma anche un po' più dubbioso della presenza russa in Asia centrale ha sempre mantenuto una politica estera di cordiale distanziamento e di cooperazione strumentale con Mosca i rapporti personali tra il presidente Putin e il presidente Uzbeko Mirzi Joyev sono cordiali, sono positivi e sicuramente la cooperazione economica continua ma al tempo stesso il governo Uzbeko è stato insieme a quello kazako il più vocale e il più deciso nel non riconoscere i territori di Lugansk e Donetsk in Ucraina e nel non avvallare diciamo l'operazione speciale militare in territorio ucraino per quanto riguarda il Turkmenistan c'è stato di recente un cambio al vertice il figlio del precedente presidente Berdy Mohamedov è ora il presidente oggi è suo compleanno e lo dico non per fare del gossip ma perché Putin e Berdy Mohamedov si sono scambiati oggi una telefonata bilaterale dove la mappa del futuro delle relazioni bilaterali Russia-Turkmenistan è stata delineata ed è una mappa così almeno di primo acchitto molto collaborativa detto questo le ripercussioni dell'erosione del ruolo della Russia in Asia Centrale si vedono anche dal punto di vista energetico e infrastrutturale Kazakistan e Uzbekistan stanno cercando in tutti i modi di diversificare l'approvvigionamento energetico ad altri clienti bypassando la Russia è importantissima questo è anche uno dei risultati del meeting di Samarkand la ferrovia Cina-Kyrgyzstan-Uzbekistan che ha ricevuto finalmente il semaforo verde dopo 20 anni di negoziazione altro progetto infrastrutturale che bypasserà la Russia potrei andare avanti posso citarvi come mentre le repubbliche centroasiatiche la Shanghai Cooperation Organization hanno citato la necessità di incentivare la cooperazione economica infrastrutturale scientifica ed energetica il presidente Putin la sua proposta a Samarkand è stata quella di creare un evento annuale sportivo tra le nazioni della Shanghai Cooperation Organization quindi anche nelle sue parole l'Asia centrale non è stata esattamente al centro dell'attenzione poi lascerò a Giulia e Eric parlare più dell'incremento della presenza cinese ma vi do solo un dato la Cina ha investito di recente 16 miliardi di dollari in Uzbekistan gli investimenti russi in Uzbekistan ammontano a 4 quindi parliamo di un ordine di magnitudine molto differente in Asia centrale la Cina in generale nell'ultimo anno ha investito 48 miliardi di dollari e nell'ultima visita che Giulia ha menzionato prima ad Astana prima del meeting a Samarkand Tokai e Xi Jinping hanno fatto accordi per altri 20 miliardi di dollari anche lì a margine la Cina ha riaffermato l'interità territoriale e la sopranità del Kazakistan quindi è un ordine euroasiatico che secondo me è in flusso c'è sicuramente un trend di cambiamento c'è un riequilibrio non sarà più un ordine gerarchico ammesso che lo sia mai stato io sono sempre stato un po' dubbioso di questo ma c'è un avvicinamento delle forze in gioco il meeting di Samarkand credo l'abbia dimostrato e io mi aspetto un ruolo un po' più da protagonista anche delle repubbliche centrasiatiche che per quanto magari piccole le comparate a Cina e Russia hanno sicuramente interessi strategici e abilità diplomatiche seconde a nessuno quindi vediamo cosa riserverà il futuro ma sicuramente ci sono delle profonde trasformazioni in atto grazie Filippo io vedo anche una sorta di di dinamica di trasformazione anche all'interno della relazione tra Russia e Cina e l'Asia centrale secondo me è una regione fondamentale per studiare come cambiano i rapporti di forza tra Mosca e Pechino perché l'Asia centrale era considerato proprio un esempio di regione dove Russia e Cina un po' si spartivano i compiti la Russia un po' come come forniva la sicurezza anche attraverso organizzazioni di sicurezza come la CSTO la Cina invece era il partner economico per eccellenza che attraverso la Belt and Road Initiative faceva investimenti infrastrutturali importantissimi e questo pensi Giulia che cambierà alla luce della guerra in Ucraina perché abbiamo visto che c'è anche un deterioramento se vogliamo una tendenza al deterioramento come diceva Filippo dell'immagine della Russia come pensi che cambieranno gli equilibri? Innanzitutto non abbiamo ovviamente la sfera di cristallo per prevedere che cosa succederà domani o dopo a quanto pare no però quello che possiamo dire in base a quelle che sono state anche la storia delle relazioni e i vari equilibri è sicuramente che la Cina come ricordava Filippo negli anni ha sviluppato sempre di più e incrementato sempre di più la propria presenza in Asia Centrale e la guerra in Ucraina dà un assist a questo incremento della presenza cinese in Asia Centrale perché? Perché con la grande oppositore alla Cina alla sua sviluppare sempre di più una presenza sempre più pressante era di fatto il controaltare russo controaltare russo che in qualche modo è andato a essere svilito nella sua posizione all'interno dello spazio post-sovietico non soltanto l'Asia Centrale noi passiamo oggi di Asia Centrale ma la guerra in Ucraina ha certamente andato a creare delle difficoltà alla Russia nel tutto quello che è le sue relazioni con lo spazio post-sovietico esclusi alcuni paesi un elemento però ovviamente ci sono tantissimi osservatori che hanno come tutte le cose opinioni diverse su cui vorrei soffermarmi è il fatto proprio della Cina in un ruolo più di sicurezza all'interno dell'area centro-asiatica comprendente anche l'Afghanistan che non è un membro effettivo ma è sempre stato una delle tematiche centrali della Shanghai Cooperation Organization soprattutto in questo frangente in cui gli Stati Uniti hanno lasciato il paese è difficile prevedere e vedere una Cina più attiva in campo di sicurezza all'interno dello spazio post-sovietico per diversi motivi in primis il fatto che la Cina ha una serie di principi che segue quando va a interfacciarsi con i paesi nella sua politica estera che prevedono anche un certo grado di non interferenza negli affari interni dei paesi e questo ovviamente le mette dei paletti dei limiti per la potenzialità di azione in questioni che sono giudicate in qualche modo interne questo è sicuramente un punto cardine che ci è stato anche dimostrato proprio nel momento in cui gli Stati Uniti le forze statunitense hanno lasciato l'Afghanistan in cui in qualche modo anche diversi paesi dell'area diversi vicini dell'Afghanistan si auspicavano un ruolo più permeante della Cina in ambito di sicurezza cosa che non è stata anzi in diversi documenti in diversi incontri la Cina ha dimostrato di preferire in qualche modo una rete di sicurezza di sicurizzazione dell'Afghanistan che partisse proprio dalla regione tenendosi in qualche modo in un ruolo più esterno più separato rispetto a quello che era stato una presenza fissa statunitense un ruolo centrale statunitense all'interno della questione dell'Afghanistan e questo sommato anche al fatto che la Cina vede l'Asia centrale una delle quando si leggono gli studi o i documenti politici cinesi sull'Asia centrale qualcosa che ritorna sempre è questo tema dell'insicurezza questa grande rete di paesi giudicati insicuri proprio perché ci ricordava Filippo prima diversi nodi di insicurezza proteste conflitti di confine tutte queste dinamiche che si susseguono all'area centrasiatica sono ben presenti all'occhio cinese negli ultimi anni ne abbiamo avuti diverse tendenze diverse evidenze empiriche diversi eventi che si sono succeduti e la Cina si è sempre tenuta molto distante da questo punto di vista andando a fornire perlomeno discorsivamente appoggio a quello che sono generalmente la risoluzione pacifica il prima possibile di questi fulcri di insicurezza senza però proporsi come effettivamente un polo che potesse in qualche modo agire direttamente in questi fulcri di insicurezza per andare a ritrovare una certa stabilità e questa è un po' l'aspettativa che la Cina mantiene non soltanto in Asia Centrale ma in tutto il mondo per cui è difficile prevedere un intervento cinese all'interno del network della Shanghai Cooperation Organization che di fatto vada di inserirsi in queste dinamiche più direttamente questo non significa però che fino adesso la Cina non abbia partecipato a quelle che sono state le grandi attività relative proprio all'organizzazione in ambito di sicurezza molto spesso quasi ogni anno si facevano prima della pandemia queste esercitazioni militari congiunte più o meno con la presenza più o meno di tutti i membri della Shanghai Cooperation Organization a cui la Cina ha di fatto partecipato in diverse occasioni però al di là di questo tipo di cooperazione o cooperazione nell'ambito del quello che Filippo ci ricordava prima il terrorismo il secessionismo e l'estremismo religioso questa lotta e concludo soprattutto da un punto di vista di scambio di informazioni tra i membri della Shanghai Cooperation Organization Cina inclusa è difficile prevedere un intervento maggiore più diretto della Cina in queste questioni ottimo quindi c'è una tendenza ma non così veloce probabilmente come ci aspettiamo il ruolo della Russia continuerà ad essere quello di potenza militare nella regione io volevo chiedere ad Eric che come ho ricordato prima nell'introduzione lavora anche con un'agenzia di stampa cinese come i media cinesi descrivono la guerra in Ucraina e il ruolo della Russia non solo nella regione post sovietica ma a livello globale io non scrivo sull'affare internazionale per l'agenzia cinese ma una cosa io scrivo più sulle cose culturale o cose più generale ma una cosa che mi ha colpito durante la mia collaborazione con loro scrivo in inglese non in cinese ma una cosa come giornalista occidentale che mi ha sempre colpito di loro è che il loro punto di vista è la cosa più importante qua in Italia o in America o in altri paesi quando se io collaboro con la stampa americana o la stampa britannica o anche la stampa italiana la verità è la cosa più importante se è una verità inconveniente va bene invece con la Cina non dico che viene inventato o che non è vero quello che viene scritto ma la percezione è molto molto importante c'è il caso che se io faccio una video intervista con uno come Filippo adesso e lui aveva dei libri in fondo loro non mettono in giro quell'immagine perché hanno paura che magari uno di questi libri in fondo può implicare una cosa negativa o critica sulla Cina o se è possibile chiedono di girare tutti i libri per vedere le pagine invece dei titoli o non parlano di una guerra in Ucraina parlano di un conflitto o di una crisi e questo è una cosa che io dovevo imparare lavorando con loro perché la mia filosofia giornalistica è di coprire un evento seguire quello che succede e scrivere quello o dare mia interpretazione a quello e questa è una filosofia diversa non dico neanche che è meno giusto ma è una cosa strana dal mio punto di vista quindi quando se io devo scrivere una cosa generale se Mario Draghi va a Bruxelles e parla con il Parlamento Europeo o Strasbourg non mi ricordo dove era e critica Ucraina scusami critica Putin in Russia per l'azione in Ucraina non posso scrivere quello perché per implicazione è una critica indiretta a Pechino e ad esempio non è collegato a questo tema di oggi ma quando c'era Presidente Obama venuto a Roma mi hanno chiesto di scrivere su quello ho detto va bene l'americano della situazione scrive sulla visita di Obama ma io non potevo dire che lui è venuto a conoscere Papa Francesco dovevo dire che lui è venuto a conoscere Matteo Renzi perché la relazione tra Cina e il Vaticano non esiste e quindi non è falso che è venuto a conoscere Renzi ma non è il motivo per la visita e per conoscere il nuovo Papa e io penso che questo punto di vista nella loro stampa è una cosa che uno deve tenere in mente quando sta guardando come loro coprono gli eventi e io penso che quando leggo gli articoli sulla riunione in Uzbekistan o quando leggo cose che loro scrivono su Putin o sulla guerra in Ucraina questo filtro mi aiuta a capire il loro punto di vista e penso che è una cosa interessante e importante da tenere in mente quando uno guarda la stampa cinese su qualsiasi tema grazie mille per questo spaccato veramente utile su come lavorano i media i media cinesi abbiamo dieci minuti e vorrei aprire alle vostre domande se ce ne sono ecco ce n'è una buonasera grazie per la vostra trattazione fino a questo momento e anzi volevo aggiungere due elementi che per me sono molto importanti puoi presentarti per favore Lorenzo Nicolao giornalista corriere volevo porre l'accento su due aspetti molto importanti che sono inerenti poi quella che è la relazione tra Cina e Russia ovvero da una parte la crisi che c'è stata nel corso di quest'estate su Taiwan e attualmente un po' anche sentire i relatori qual è il loro punto di vista che ruolo potrebbe giocare in quell'area perché tutto sommato almeno dal mio punto di vista la Cina ha verso Taiwan delle mire che sono prossime a quelle della Russia per l'Ucraina pur in un contesto estremamente diverso quindi c'è comunque una logica parallela tra i due paesi e dall'altra parte non mi sembra sia stata citata quanto sta avvenendo in Armenia quindi stati piccoli dell'area centroasiatica se sono destinati a soccombere un po' al corso degli eventi perché naturalmente la guerra in Ucraina copre gran parte un po' dei riflettori o anche dall'ambito dei media siamo tutti concentrati su Kiev ma ci sono al contempo altre situazioni di crisi che coinvolgono questi paesi che magari non hanno lo stesso ha lo stesso rilievo dagli occhi dell'Occidente questi due punti grazie grazie mille ci sono altre domande che raccogliamo nel frattempo arrivano anche delle domande poste sui nostri canali social per esempio Giulio chiede quale sia appunto lo stato della relazione attuale tra Russia e Cina e probabilmente insomma come io vorrei anche chiedere a Giulia come è cambiato se pensi che cambierà il sostegno della Cina alla Russia alla luce di questa famosa minaccia nucleare di cui parlavamo in apertura io poi risponderò alla domanda sull'Armenia perché è un'ottima domanda ed è proprio la mia area di ricerca Giulia vuoi iniziare tu? Sì grazie mille per le domande rispondo brevemente su Taiwan in realtà la prospettiva è un po' diversa dal punto di vista cinese Taiwan di fatto è già parte della Repubblica Popolare a conti fatti noi possiamo interpretarlo in maniera diversa la maggior parte degli stati internazionali non lo riconoscono come stato indipendente ma dal punto di vista cinese Taiwan lo è già e in qualche modo io sono tra gli scettici sul fatto che effettivamente si veda una relazione tra Taiwan e Cina con una possibile invasione da parte della Repubblica Popolare di Taiwan così come si è visto sulla Russia proprio perché si poggia su principi che sono molto diversi semplicemente questo che ho ricordato il fatto che dal punto di vista cinese Taiwan è già parte della Repubblica Popolare e l'aspettativa quando soprattutto si parla con osservatori che sono proprio su Taiwan un po' la prospettiva è sicuramente cambiata anche la luce di quello che è il discorso internazionale riguardo questi paralleli però quello che ci si aspetta immagino che tu ti riferissi soprattutto al fatto che c'è questo centenario che la Cina sa qui la Repubblica Popolare Cinese sta arrivando il 2049 che dice che tutti i territori di fatto che hanno questo stato ibrido in qualche modo torneranno sotto la piena sovranità di Pechino beh questo obiettivo che è sicuramente fonte di tantissima preoccupazione tuttavia molto spesso è visto come raggiungibile da parte di Pechino attraverso una formula simile a quello che è successo da Hong Kong quindi che cosa significa una formula che passa più da un punto di vista legislativo che da un punto di vista militare questo ovviamente se lo status quo nell'area regionale rimarrà quello che è adesso contrariamente se dovessero esserci delle differenze nel modo in cui Taiwan è vista a livello e riconosciuta a livello internazionale da grandi potenze come gli Stati Uniti allora quella sarà un'altra storia come sono le cose adesso però questa è una prospettiva che io personalmente sposo molto di più proprio alla luce di quello che è il discorso politico cinese su Taiwan brevemente la seconda domanda che riguardava Eleonora aiutami allora in generale come vedi l'evoluzione tra Russia e Cina soprattutto alla luce delle dichiarazioni di Putin e della minaccia nucleare beh in realtà una cosa che mi preme dire fin da subito è che la Cina non si è mai dimostrata felice del conflitto in Ucraina e di quello che la Russia stava facendo in Ucraina per tantissimi motivi che si rifanno ancora una volta i suoi principi di politica estera e questo ce l'ha documentato tante volte non esprimendo mai pieno supporto a quello che stava succedendo in Ucraina questo penso sia un elemento fondamentale a maggior ragione non mi sorprende assolutamente il fatto che la Cina manterrà comunque questa ambiguità che la contraddistingue al di là che si parli di Russia al di là che si parli di la maggior parte di quelle che sono le questioni inerenti al sistema internazionale certamente non mi aspetto nessun tipo di supporto aperto da parte cinese su questo vorrei giusto brevemente visto che abbiamo i tempi un po' contati c'è una una frase che si è letta moltissimo sul samedi Samarkand in cui di fatto Putin andava nei comunicati del Kremlin a ricordare quanto la Cina non si fosse dimostrata di supporto a quella che era la questione ucraina qualcosa che non esiste nei comunicati in lingua cinese per esempio che mantengono una certa ambiguità in questo senso riguardo proprio l'approccio alla Russia sicuramente l'ambiguità c'è e ci sarà sempre ma la Cina si è dimostrata diverse volte a non supportare o non dare pieno supporto aperto scritto su carta o detto via discorsi per quanto riguarda la questione in Ucraina proprio perché la mette in seria difficoltà su quelli che sono i suoi principi di politica estra ve lo ricordavo il grande principio chiave della non interferenza negli affari interni dei paesi e questo è sicuramente associato all'integrità territoriale alla sovranità nazionale tutta una serie di principi che rendono in qualche modo illegittima quella che è l'azione russa in Ucraina ciò nonostante e chiudo sicuramente la Cina anche alla luce di questo mantenimento di questa ambiguità ha più volte ricordato di quanto ogni caso sia diverso e che bisogna anche ricordare e tenere a mente quali sono gli obiettivi di sicurezza dei paesi quindi cercando di bilanciare un po' questa posizione in questa maniera ambigua e non pendere né da una parte né dall'altra grazie aggiungo solo su questo che la Cina ha sempre detto che il colpevole di tutta questa situazione in Ucraina è la Nato quindi in un certo senso c'è una forte condanna dell'Occidente e poi effettivamente non è felice dell'invasione quindi della violazione della sovranità ucraina però allo stesso tempo non può nemmeno condannare troppo apertamente il partner russo e per finire sulla relazione Russia-Cina in questo momento e rispondere anche un po' alla domanda che ci ponevamo nel titolo dell'evento se è un'amicizia senza limiti come l'ha definita Xi Jinping oppure un'alleanza con riserva io propendo più per la seconda lo stiamo vedendo adesso con una Russia più vulnerabile più isolata la Cina è il partner forte all'interno di questa di questa alleanza e basta vedere i dati commerciali per capirlo crescono cresce l'intercambio in generale commerciale ma è fortemente sbilanciato cioè sono cresciute le esportazioni russe verso la Cina e sono esportazioni che sono quasi il 70% energia praticamente gas e petrolio non crescono in maniera altrettanto sostenuta le esportazioni cinesi verso la Russia quindi è vero che la Cina sta diventando il partner commerciale principale per la Russia però è un partner che ha un po' la mano forte all'interno dell'alleanza e volevo fare qualche commento sull'ottima domanda su Armenia perché come sapete nel Caucaso del Sud c'è questo conflitto tra Armenia e Azerbaijan che va avanti da più di 30 anni che si è riacceso periodicamente nel 2020 l'ultima grande guerra adesso ci sono stati decine e decine di morti e non una altrettanto diciamo viva attenzione internazionale su questo conflitto purtroppo la triste verità è che la Russia in questo conflitto è l'attore che è stato più rilevante nella mediazione e nell'imporre anche il cessato il fuoco in tutti gli anni di questo conflitto e oggi la Russia è distratta la Russia che tra l'altro è vista come protettrice un po' dell'Armenia ma che ha avuto sempre un atteggiamento molto pragmatico quindi con una relazione cordiale con l'Azerbaijan commerciale molto forte anche di vendita di armi all'Azerbaijan però fondamentalmente è sempre stata vista come un po' la garante dell'ordine tra Armenia e Azerbaijan e oggi purtroppo questa Russia non sta espletando questo ruolo quindi vediamo non solo un riaccendersi delle delle violenze ma anche l'entrata in gioco di altri di altri attori che fino ad adesso sono rimasti un po' diciamo nell'ombra mi riferisco soprattutto a Stati Uniti e Unione Europea Unione Europea che come sappiamo non è un attore di sicurezza ma che stava almeno favorendo il dialogo tra Aliyev e Pashinyan tra i presidenti azerbaijani e armeno e Stati Uniti visto proprio che la settimana no qualche giorno fa c'è stato il primo incontro tra il ministro degli esteri armeno e quello azerbaijano sotto leggi da proprio degli Stati Uniti del segretario Blinken e quindi si vede anche un maggiore coinvolgimento degli Stati Uniti in un conflitto dove finora la Russia era diciamo l'attore principale di sicurezza sul fatto dell'attenzione mediatica e politica purtroppo è vero che non ne riceve tanta come altri conflitti ma questo è purtroppo una realtà delle relazioni internazionali e va considerato anche il fatto che l'Azerbaijan si sta sostituendo sempre di più alla Russia come fornitore di energia per l'Unione Europea non dico che questo porti ad una reazione totalmente sbilanciata da parte di Bruxelles penso che in questo senso Bruxelles si voglia mantenere un po' come come mediatrice tra Armenia e Azerbaijan però decisamente non porta ad una condanna molto ferma come nella mia opinione dovrebbe essere noi siamo già cinque minuti in ritardo quindi se non ci sono altre domande chiuderei chiuderei qui vi ringrazio tantissimo per l'attenzione ringrazio gli ospiti qui con me e da remoto dalla Scozia grazie per l'invito la prossima volta ti vogliamo qui con noi e complimenti per la scelta dello sfondo bianco a prova di interviste cinesi esattamente grazie per la scelta